Un saluto a tutti gli utenti di Facebook e YouTube, come spesso? Certo, come no? Ciao a tutti da Crista T. Gels, l'autore del blog, per me una grandissima emozione, il grandissimo Mango, grazie a tutti per voi. Io voglio saldare tutti quanti e fare un abbraccio a Mango, grazie a Mango, complimenti.